La storia di quest'uomo, il suo libro, la giornalista Eschietti dice, parte proprio da una storia vera, quella di Albert Pierpoint, un pubblico giustiziere che poi si è pentito. Chi è stato questo personaggio? Sicuramente il pubblico giustiziere più famoso del mondo, perché veniva addirittura chiamato in altri paesi, per esempio in Germania, per giustiziare i criminali nazisti, le Belveri Bergen-Belsen, quindi vuol dire che era molto considerato. Era un bambino ignaro del mestiere del padre e dello zio che a un certo punto sente che questa è una missione per lui, ma allora in Gran Bretagna la pena di morte era accettata da tutti. Lui usciva dal carcere, la gente lo acclamava, voleva gli autografi, lo inseguiva, quindi per lui era veramente compiere una missione. Ecco, parliamo di oltre 500 esecuzioni in 25 anni per sua mano, poi succede qualcosa a fine anni 50 che cambia un po' la sua visione delle cose, cosa succede? Sì, perché piano piano intanto l'atmosfera comincia a cambiare, arrivano dei pamflet, Albert Camus scrive, Kessler scrivono, quindi lui poi giustizia l'ultima donna impiccata in Gran Bretagna, Ruth Ellis, da qui è stato tratto il bellissimo film Ballando con uno sconosciuto, con Rupert Everett e Miranda Richard, quando esce dal carcere, dopo aver giustiziato questa splendida donna, la gente non lo acclama più, lo vuole linciare. Lui torna a casa, sposato, ha un pub, l'altro lavoro, riflette, capisce che la pena di morte è un crimine di Stato, scrive una lettera commovente, che io ho messo nel libro proprio da vengono i brividi, lascia e comincia a combattere contro la pena di morte. Il motivo per cui l'ho scritto è questo, perché c'è la postfazione di nessuno tocchi caino, per questo, perché quale miglior testimonial di un ex pubblico giustiziere che si pente e combatte contro la pena di morte? Nel libro però ho voluto anche raccontare tutti i più famosi crimini, delitti della Gran Bretagna di quei 50 anni, fino ad arrivare poi all'abolizione della pena di morte. Ecco, questa è l'occasione anche per parlare della pena di morte a livello attuale nel mondo, come siamo messi? Meglio e male, nel senso che noi sappiamo quello che succede in Medio Oriente, sappiamo quello che succede in Cina e in tanti paesi del mondo, ma quello che è veramente spaventoso è quello che succede negli Stati Uniti d'America. Nella civilissima America, pensiamo al Texas e altri stati, la pena di morte c'è ancora e io sono felice intanto dell'azione di nessuno tocchi caino, che è importantissima, che chiede le muratorie, quindi intanto la sospensione, poi si passa all'abolizione. Ma c'è l'Innocence Project in America, quel progetto che serve a rifare i processi con le nuove tecnologie, quindi con il DNA, a coloro che sono nel braccio della morte. Persone, sono state più di 200 persone nel braccio della morte da 15 anni ed erano innocenti. Un modo come un altro, anche questo libro, ricordiamo l'ultimo boia, edito da Vallecchia, anche per ricordarci che dalla situazione all'interno delle carceri sulla pena di morte, ma non solo, si vede in qualche modo anche la civiltà di una democrazia. Bravo, esattamente questo.